L'esatto opposto del modo in cui era morto. Rorke o chi per esso se l'era presa comodo, con gusto. E adesso dava la caccia ai Ghost. Ma ancora una volta la Federazione era tornata all'attacco e ci aspettava di nuovo il caos. E in mezzo a tutto quel casino c'era nostro padre, dovevamo trovarlo. C'è stato il fuoco, c'è stato il fuoco! Sono i nostri! C'è un'erba! Siete valking? Che possiamo fare? Il comando vuole altri uomini al fronte! Ok, vediamoci al centro di comando. Ti affido il nostro caso. Affermativo, ma perdiamo terreno. Dovete fornire supporto alla spiaggia. Stiamo andando. Negativo. I nostri difendevano quella posizione, ma non rispondono più. Di sicuro se l'è cavata, figliuolo. Perdiamo la spiaggia! Serve qualcuno alla mitragliatrice! Gli andia ci stanno rientrando. Dovrete aspettare un po' prima che ritornino. Perderemo la spiaggia! Fumaggiano! Si stanno segnalando! State giù! Arrivare figliere nemica! Attenzione! Comando, belli voli nemici attaccheranno la nostra posizione. Tempo all'arrivo dei droni! Droni A-10 in arrivo, 30 secondi. Perdiamo la spiaggia e quei droni ci servono subito! Edito a te, non è lì, guarda! Un 3-10 in zone in attesa di ordini. I droni sono pronti, aspettiamo te! 1-34 in?... 1-34 in arrivo da est. 1-34 in arrivo da est. 2-39 in. Puglione di multiplayer in avvisolo a pagione. Di posizionamento, droni presso di sui. Attendere! 1-66 in arrivo da est. Atenzione! Dai, alzati! Mestagli nelle trincee! Al riparo! Le squadre al controllo droni subiscono gravi perdite e chiedono assistenza. Ricevuta! Mettetemi in contatto! C'erano circondati! Dopo l'arrivo? Attraversiamo le trincee! Tenete duro! Arriviamo! A tutte le unità in difesa, alleati in movimento nelle trincee dal suo controllo droni. Occhio a dove sparate! Signore, le trincee sono piene di federati! Senza la torre perderemo gli a dieci e anche la spiaggia! Forza! Cabalol! Contatto! 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 Commando, upercrust 2 possano avvicinamento. The squadre avanzando con essere comevoir possibile! Ricevuto, ordine diramato. Il ghiaccio sotto il volcato. Ok. Il ghiaccio sotto il volcato sull'overe. Ok. E' un'ultima dubbio, scusate! Ce l'ho circondati! Tampo all'arrivo! Ci siamo quanti, ne sessiate! Controlla droni! Porta nemica in torno a voi! Serve il supporto aereo sulla vostra posizione, non riuscirò mai a passare! Ricevuto! Schiamamento droni! La torre sarà nella zona d'attacco! Vocchio! Chiamali! Mi fa il possibile per non colpire la rossa! Tampo all'arrivo! Stiamo tornando! Lui è attaccato! Ok. Falteria in grida di distrutti! Avrò sicuramente il coinvolto! Riposizionamento droni presso di voi! Ascendere! Alla torre ci sono ancora troppi nemici! Vai con i droni! Droni in riposizionamento! I droni sono pronti! Aspettiamo te! Occhio! L'arrivo da E! Ci hanno aggacciati! Sono evasive! Drone il tuo colpino! Drone il tuo colpino! Non prendetevi! Sono droni, rispondete! Cazzo! Dai, andiamo! Compritemi! Contatto ovest! Contatto! Quello era l'ultimo! Andiamo! Comando, controllo droni fuori uso! Procediamo all'evoluzione dei feriti! A tutte le unità, qui comando! Supporto droni a 10 non disponibile! Ripiegare alle postazioni secondarie! Ripeto, smobilitare dalla spiaggia! Lo fai nella prossima via, presto! Lo fai nella prossima via, presto! Lo fai nella prossima via, presto! Sabele, che spero! All' опред Weise? Oh no, oh no, oh no! Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no! Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no! Logan! Cazzo, stai sanguinando! Non è così grave, te la caperai! Attenzione! Ok, Kick, portaci via! Ehi, da qui non ce ne andiamo! Stai calmo! Ehi! Mi abbiamo appena salvati! E chi me l'ha chiesto? Ma senti questo! Basta! Tutti quanti! Dobbiamo tornare a Santa Monica da nostro padre, non ce ne andremo senza di lui! Il revole è da parte tua! Ma tuo padre non è più lì! Papà! Tu sei sempre stato uno di loro! Un ghost! Stai! Stai parlando con un superiore! Qui Titan 3-1 pronto all'altra cross! Non sapete quanto è stata dura per me? Titan 3-1 in avvicinamento! Ma io non torno mai sui miei passi! Voi due siete ancora giovani! Ma avete superato tutte le prove! Benvenuti tra i ghost! Siamo pronti! Non ti deluderemo! Sono certo! Sono fiero di voi! Di entrambi! Scusate se rovino il quadretto! Ma che facciamo con Rork? Rork! Quello che dà la caccia ai ghost, vero? Già! È abile! Molto abile! E sa come ci muoviamo! Com'è possibile! Era uno dei nostri! È accaduto 12 anni...